Quali spese devo pagare se devo vendere un immobile? La prima ipotesi è la vendita di un immobile acquistato per l'agevolazione fiscale prima casa prima dei 5 anni. In questo caso dovrò pagare solamente la plusvalenza. La seconda ipotesi è vendita di una casa acquistata come seconda casa sempre prima dei 5 anni. Anche in questo caso avrò un'eventuale plusvalenza da pagare. Come terza ipotesi abbiamo la vendita di un immobile acquistato come prima o seconda casa dopo 5 anni dall'acquisto dell'immobile stesso. In questo caso non avremo alcuna spesa da dover pagare. Se volete maggiori informazioni sui temi che stiamo trattando contattateci qui. . . . . . . . . .